Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Teleestense, domani il ministro dell'agricoltura Bellanova sarà a Ferrara per affrontare diverse problematiche legate a questo settore, in primis la cimice asiatica che sta mettendo in ginocchio le colture estensi, c'è un altro settore invece sempre per l'economia, parleremo di molta economia in questa edizione, il settore però è anche quello della sanità ferrarese che vedrà diverse assunzioni a breve, quando saranno lo sentiremo a breve, ma sempre per l'economia c'è il perentorio no della CNA riguardo all'arcopamento o al commissariamento della Camera di Commercio estense, poi per lo sport oggi hanno giocato SPAL e Cagliari, i biancoazzurri hanno perso per 2-0 in terra sarda e sentiremo a breve l'intervista all'allenatore della SPAL, Leonardo Semplici, però parliamo subito delle assunzioni in vista nella sanità ferrarese, a dirlo sono i sindacati di categoria, assunzioni che starebbero per arrivare prossimamente, allora sentiamo tutto in questo servizio. Assunzioni in entrambe le aziende sanitarie ferraresi per coprire il turnover del 2019, circa 164 cessazioni per l'azienda USL e 121 per l'azienda ospedaliera Sant'Anna, più un aumento di personale sia medico che del comparto per implementare e migliorare i servizi sanitari. La giudicano positivamente i sindacati dei lavoratori della sanità ferrarese l'approvazione dei piani dei fabbisogni 2019-2021 da parte della Regione Emilia-Romagna che porterà quindi a coprire i posti di lavoro lasciati vuoti da chi va in pensione ad esempio e in più implementerà gli organici. L'area che verrà maggiormente rafforzata per CGL Cislewil sarà quella dell'emergenza. Per il personale amministrativo sarebbe stato garantito il turnover ma purtroppo ad oggi a causa dei forti ritardi nell'uscita dei concorsi di area vasta per le categorie C e D per i sindacati la sanità ferrarese sarebbe in grande sofferenza su questo settore e l'augurio sempre per CGL Cislewil è che i concorsi vengano espletati nel minor tempo possibile. Riteniamo che la difesa del servizio sanitario pubblico debba necessariamente passare attraverso un concreto investimento sul personale concludono le sigle sindacali e quanto è stato presentato dalle due aziende sanitarie e approvato anche dalla Regione sostengono CGL Cislewil ne è un esempio. che spiega quali accorgimenti adottare. Un'emergenza ambientale ed economica che sta mettendo in ginocchio lavoratori e produttori dell'ortofrutta. È la cimice asiatica l'insetto che nel nord Italia quest'anno ha già provocato 350 milioni di danni solo per quanto riguarda pere, pesche e nettarine e che la Regione Emilia-Romagna sta combattendo con misure straordinarie. Massimo Bariselli del servizio fitosanitario regionale spiega quali accorgimenti adottare per difendersi dall'insetto anche in ambito domestico. In autunno le cimici tendono a nascondersi nelle case e si riparano nelle abitazioni dando fastidio alle persone. Ci sono alcune cose però che è importante che la gente sappia. Intanto la cimice non è pericolosa per l'uomo e per gli animali. Non punge, quindi è soltanto un disagio dovuto al fatto che le cimici puzzano, si infilano in grandi numeri nelle case perché questa cimice è di origine asiatica, emette un feromone di aggregazione che richiama altri cimici per cui i numeri non sono quelli per cui eravamo abituati ma molto spesso nelle abitazioni ci troviamo dei numeri importanti, 50, 100 e oltre cimici. L'altra cosa che è importante che la gente sappia è che comunque non fanno il nido in casa. È una loro esigenza per superare l'inverno e trovare un luogo riparato, entrano nelle case per poi allontanarsene in primavera, quindi non c'è il rischio che una casa infestata sia riempita di cimici per sempre. È un fatto soltanto episodico e l'ultimo fatto importante, buona parte di questi cimici che entreranno nelle case sono destinate naturalmente a morire. Una delle cose che ci vengono chieste più di frequente è come combattere le cimici che entrano nelle case. Premesso che non ci sono delle tecniche vincenti, quindi alla fine il consiglio più semplice è quello di evitare la loro entrata con zanzariere e qualsiasi altra barriera. Ci sono delle pratiche che sono consigliate, altre che non sono consigliate. Ad esempio fra quelle non consigliate è quella di riportarla all'aperto. Tenete presente che le cimici sono estremamente pericolose e dannose in agricoltura, quindi è uno dei pochi casi in cui non mi sento assolutamente di consigliare di ributtarla all'aperto, ma è opportuno eliminarla. Quindi prima cosa da non fare è ributtarla all'aperto. Seconda cosa da non fare è quella di abusare di insetticidi nell'ambiente domestico. Gli insetticidi probabilmente nel breve periodo sono efficaci, la cimice muore, però ne arrivano sicuramente delle altre e quindi alla fine noi usiamo dei prodotti che sono pericolosi in un ambiente domestico, in un ambiente in cui noi viviamo. Quindi anche questa è una pratica assolutamente da evitare. Economia c'è preoccupazione in CNA a Ferrara per l'accorpamento obbligatorio delle Camere di Commercio che potrebbe toccare anche l'ente camerale estense. No all'accorpamento obbligatorio della Camera di Commercio sarebbe un pessimo biglietto da visita per il governo, a dirlo il presidente di CNA provinciale Ferrara Davide Bellotti che prende posizione. Sono molto preoccupato dalla possibilità che la Camera di Commercio di Ferrara venga commissariata sulla base di un emendamento inserito in uno stravagante decreto onnicomprensivo magari votato a fiducia, sostiene Bellotti, che si schiera contro qualsiasi forma di accorpamento obbligatorio delle Camere di Commercio e in particolare ovviamente quella di Ferrara. All'origine del problema ci sarebbe il decreto legislativo 2019 del 25 novembre 2016 sul riordino delle Camere di Commercio che prevedeva tra le altre cose l'accorpamento delle Camere di Commercio con meno di 75.000 imprese iscritte. Ora un emendamento rischia di rimettere tutto in gioco imponendo le 18 Camere di Commercio coinvolte dalla legge del 2016 tra cui Ferrara a scegliere tra accorpamento entro marzo 2020 o commissariamento. La Commissione Politica Economica del Consiglio regionale ha già preso posizione contro questo emendamento votando una risoluzione ad hoc. Anche il Consiglio Comunale di Ferrara ha dato un proprio stop alla fusione con un ordine del giorno della maggioranza. Alla base del netto rifiuto per ogni ipotesi di accorpamento obbligatorio, conclude il Presidente di CNA, non ci sono solo ragioni politico-economiche ma anche di rispetto delle comunità. E si è svolta ieri pomeriggio in Municipio a Ferrara la tradizionale festa sociale dell'Avis Comunale della città estense per premiare i donatori di sangue che con il loro gesto hanno salvato diverse vite umane. Quasi 600 i donatori che hanno ottenuto la benemerenza dal distintivo in rame che conta otto donazioni a quelli in oro con diamante che conta ben 120 donazioni. La testimonianza adesso le andiamo a sentire di due donatori Avis. 120 donazioni è così? Certo, 120 donazioni. Io sono dal 7 gennaio del 1978 che sono donatore e la fortuna mi ha assistito con la salute fino ad adesso e mi fa piacere aver dato qualcosa di me a chi ne ha bisogno. Io non posso dire altro. Come si è avvicinato all'Avis? È stato un collega di lavoro che faceva parte dell'Avis di Porto Maggiore e che ha avuto un incidente molto grosso sul lavoro e per ringraziare chi gli aveva donato il sangue per salvargli la vita. È diventato donatore. Mi ha detto ma perché non provi anche tu? E allora io insomma un po' titubante però mi sono avvicinato e insomma sono qua. Che effetto fa sapere che diciamo così un gesto come questo ha salvato sicuramente tantissime vite? Ma io le dico questo qua. La prima donazione che ho fatto ho incontrato una mamma di un bambino che aveva il morbo di Cucca e mi implorava di regalargli il sangue. Io ho detto signora io penso che sia buono il mio sangue, stia sicura che è suo e quindi veda lei. Da qui insomma questo gesto per spiegare anche a chi ha paura del lago e per avvicinarsi. No, guardi la cosa più dolorosa non è l'ago nel braccio, è quella quando ti fanno il prelievo dell'emoglobina che è un pochino più doloroso però è passabile, diciamo così, questo è quello che posso dire. Martina Segreto, la prima medaglia è chiaramente un inizio. Sì, esatto. Spero di poterne fare molte altre. La prima è quella di rame, spero di arrivare in fretta a quella d'argento che è quella dopo. Come ci si avvicina l'Avis? Io mi ci sono avvicinata per fare volontariato. Ho iniziato col servizio civile e poi sono rimasta come volontario nell'area giovani e anche nell'area scuola. Nell'area giovani organizzo attività per i bambini, per le famiglie e per la prevenzione di alcune malattie. Ad esempio organizzo lo screening ai reni insieme al consigliere dell'area giovani. Invece per i bambini organizzo delle feste come quella che c'è il 27 di ottobre, domenica, in cui facciamo fare un concorso di disegno e regaliamo della cioccolata. Questo cosa significa? Avvicinare i bambini, ma avvicinare soprattutto le famiglie e nuovi donatori? Sì, esatto. Vogliamo intanto far riconoscere l'Avis ai bambini, fargli capire che comunque non è solo un luogo di prelievo, ma è anche un luogo di divertimento e poi diamo l'opportunità ai genitori di lasciarci i figli e andare giù a donare in sala di raccolta. Diciamo un appello per il che giorno, l'ora e tutto. È domenica 27, si può venire in qualsiasi orario, dalle 8 fino a mezzogiorno e noi volontari siamo lì e accogliamo tutti i bambini che vogliono partecipare. Dopo aver fatto il disegno, poi il disegno nella settimana successiva viene votato dai donatori che vengono a donare e il disegno più bello poi verrà premiato con una coppa e un regalo. Una giornata importante anche per l'amministrazione comunale vicina all'Avis? Un'amministrazione comunale assolutamente vicina a questa importante realtà, un'associazione che sta dando tanto a questa città e direi che l'amministrazione non può che essere orgogliosa di aver ospitato oggi proprio la cerimonia di Avis in municipio. È fuori dubbio che stiamo di fronte ad un gesto importante e siamo orgogliosi come amministrazione di avere un'associazione così attenta ad un concetto importante di solidarietà. Far capire ai giovani che la donazione del sangue o del midollo osseo rappresentino un'importante scelta di generosità e questo è stato l'obiettivo di In Viaggio per Guarire, progetto itinerante che porta in giro per l'Italia da due anni, dal 2017, ragazzi curati presso gli ospedali civili di Brescia. Il viaggio ha fatto tappa ieri sabato a Ferrara alle 11 al teatro di San Benedetto dove i protagonisti di questa iniziativa hanno incontrato gli studenti delle classi quarte e quinte del liceo classico e del liceo scientifico di Ferrara. Ai loro coetanei questi ragazzi hanno spiegato cosa ha significato trovarsi dall'oggi al domani a pensare che la vita non è scontata e le emozioni vissute anche nel vedere svanire le certezze che facevano parte della propria quotidianità. L'iniziativa ovviamente è stata patrocinata da AIL che l'ha promossa qui in città ed è stata anche molto partecipata appunto dai giovani studenti dei due licei. E adesso parliamo di prevenzione dei tumori, prevenire i tumori mangiando con gusto, di questo si parlerà lunedì pomeriggio domani nell'incontro organizzato nell'ambito del mese della prevenzione, l'ottobre rosa anche in città a Ferrara. Il tema sarà trattato dalla biologa Anna Villari, specialista in scienze dell'alimentazione e insegnante della Cascina Rosa di Milano, la scuola di cucina preventiva dell'Istituto Nazionale Tumori. Di questo appuntamento ce ne ha parlato Paola Peruffo, presidente della commissione Pari Opportunità del Comune di Ferrara. Sentiamo. Il mese di ottobre è stato proprio dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Sappiamo che con gli screening e con una sana alimentazione e un corretto stile di vita possiamo agire sulla guarigione delle pazienti, quindi è importante intercettare quanto prima la patologia. Oltre che presidente della commissione Pari Opportunità, che quindi chiaramente ha anche come mission quella di supportare le persone in difficoltà e le donne che si ammalano in tumore al seno sono donne in difficoltà, sono anche iscritte all'ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Abbiamo tenuto dall'amministrazione di illuminare di rosa l'IBS. Lunedì alle 17 avremo l'onore di avere all'interno della libreria una conferenza con Anna Villarini, che viene all'Istituto Tumore di Milano, che è tra le fondatrici della Cascina Rosa. Durante l'incontro che si svolgerà alle ore 17 si parlerà di sana alimentazione e di cucina, un modo corretto di cucinare e quindi di alimentarsi. Aspettiamo tutte le persone che sono interessate. Prima di passare allo sport e alla SPAL parliamo di eventi perché si è chiusa oggi l'ultima giornata della sesta edizione di Non Solo Saba in piazza municipale a Ferrara. Tra gli appuntamenti quello con Campagna Amica di Coldiretti e la pigiatura dell'uva per i bambini. In questa iniziativa si sono potuti gustare e anche acquistare prodotti di stagione, miele, formaggi, vino e non solo, appunto per due giorni, sia ieri che oggi in centro a Ferrara, in cui c'è stata anche la possibilità di assaggiare piatti caratterizzati appunto anche dalla Saba, ovvero il condimento ottenuto dal mosto cotto di uva. Si tratta infatti di uno sciroppo d'uva ricavato dal mosto appena pronto di uva bianca o di uva rossa che in passato si utilizzava comunemente e che viene ora ritrovato sia per realizzare dolci, casalinghi, sia anche per condire e arricchire piatti come ad esempio la polenta, il gnocco fritto, formaggi stagionati e saporiti, l'insalata e persino il gelato. E adesso però parliamo di Spal, è stata amara la sconfitta di oggi pomeriggio delle ore 15, quella per i biancozzurri nella partita contro il Cagliari, 2-0 appunto il risultato finale, buon primo tempo per la squadra di Leonardo Semplici ma che sono stati comunque puniti da un gol, un gran bel gol di Nainggolani il centrocampista del Cagliari. Nel secondo tempo poi il raddoppio con Faragò, la Spal non è riuscita a pareggiare anche se è stata pericolosa in poche a dir vero circostanze, dispiace quindi che la Spal rimane negli ultimi posti della classifica, rimane per ora terza ultima ma stanno ancora, ci sta ancora giocando in Serie A quindi la classifica è in movimento. Vi ricordo che domani sera c'è lunedì sport per essere aggiornati su tutto quello che avviene in casa Spal e in casa biancoazzurra e su tutto quello appunto che c'è da dire ma adesso sentiamo il commento dell'allenatore della Spal, Leonardo Semplici intervistato a Cagliari a fine partita da Alessandro Sovrani. Evidentemente qui da Cagliari non riuscite, noi non siamo in campo, vorremmo esserlo a portare a casa punti. Sì, dispiace perché secondo me fino al 2-0 la squadra si era espressa bene, eravamo passati sotto immediatamente in un aerogol di Nainggolan e peccato perché la squadra poi aveva continuato a giocare nella maniera giusta proponendo un certo tipo di calcio con personalità, rischiando in varie occasioni di pareggiare prima con Kurtic dove è stato molto bravo il loro portiere e poi due volte con Igor che non ha saputo concludere in maniera efficace e sicuramente andare a riposo sull'1-0 a fine primo tempo sicuramente non era meritato. Poi siamo ripartiti, sicuramente dovevamo rischiare qualcosa, purtroppo è successo un infortunio, abbiamo preso il secondo gol e lì ci siamo disuniti, lì non mi è piaciuto da lì in poi poco perché non deve accadere, una squadra nella spalla perde un po' quelle che sono la fisionomia della partita, abbiamo rischiato di andare a complicarci ancora di più la vita subendo dei gol che in quel momento non meritavamo o non avremmo meritato, sicuramente di questo bisogna parlarne perché la partita era ancora lunga, potevamo sicuramente poter far qualcosa di diverso e così non è accaduto, però ecco dispiace perché secondo me in questi due anni questa è stata la miglior partita, oggi abbiamo trovato un top player dall'altra parte che sicuramente l'ha risolta e a loro favore, però noi bisogna continuare a avere fiducia, come abbiamo sempre fatto e percorrere questa strada cercando di migliorare i tanti aspetti dobbiamo migliorare però si stanno intravedendo anche delle buone cose e quindi bisogna avere fiducia e andare avanti. Rispetto alla gara con il Parma è cambiato qualcosa? Direi fino al sessantesimo no, per quanto riguarda l'aggressione, per come siamo stati determinati per il furore che ci abbiamo messo, per l'occasione abbiamo creato anche se su palle inattive ma insomma la squadra, questo non è un campo facile quindi l'aspetto mi è piaciuta, ripeto dopo il 2-0 poco perché si va a complicarci la vita da soli, addirittura una volta siamo rimasti anche in 10 nel momento dove fa la sostituzione hanno preso il palo e quindi sono cose che se costruiamo noi all'avversario dopo diventa difficile poter ribaltare contro squadre come queste ma in Serie A sono tutte così quindi bisogna essere più scalti, più furbi ed essere più bravi in tutta la gestione 95 minuti a partire come sempre dall'allenatore. Sono arrivate ancora risposte positive, almeno questa è stata la sensazione che abbiamo avuto dall'esterno da Valdifiori. Sì direi, ho detto, la squadra ha fatto bene, ha fatto il risultato, non lo direbbe però insomma per me la squadra mi è piaciuta, è in crescita, ha fatto delle buone cose, ha creato quelle situazioni, avevamo provato in allenamento ma soprattutto i ragazzi erano riusciti ad esprimersi in maniera positiva e purtroppo riusciamo battuti e quindi bisogna buttarsi sul lavoro a partire da martedì analizzando bene gli ultimi 20 minuti e cercando di migliorare tante cose da migliorare. Questo era l'ultima intervista, l'ultimo servizio di questa edizione del telegiornale, per rimanere aggiornati c'è telestense.it, i profili social della tv di Ferrara, a me non resta che darvi appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale di Telestense. Grazie, grazie.